Noi siamo abituati a non mancare nessun impegno, anche quello delle date, quindi ce la metteremo tutta e a parte eventi imponderabili che non posso calcolare oggi, sicuramente ce la metteremo tutta e il nostro impegno sarà per quella data, per quella che già segnate rosso sul nostro calendario. Il compito più gravoso per opere del genere, che sono opere in ambiti urbani, sono sicuramente le interferenze che si vanno a creare e che ci sono e quindi sono sotto gli occhi di tutti, però ci vengo a dire una cosa molto importante, abbiamo aspettato 13 mesi per poter fare questa consegna dei lavori, abbiamo aspettato quasi due anni dalla giudicazione perché a marzo saranno due anni, io esorto tutti quanti, noi per primi, noi che facciamo impresa a dare qualcosa in più per questa città e per questo lavoro, perché noi dobbiamo assolutamente mettercela tutta e dobbiamo finire entro i termini stabiliti, poi succederanno cose che non sono prevedibili oggi, questo non lo possiamo sapere, però dobbiamo partire con l'obiettivo ben in testa di finire entro marzo 2020.